ciao oggi faccio questo video perché mi avete chiesto com'è lavorare in forever com'è lavorare in forever beh per me lavorare in forever è veramente ormai di una passione perché quando tu lavori senza avvertire la stanchezza e lo fai veramente con passione non è più un lavoro è veramente una passione mi sono accostata casualmente a questa azienda dieci anni fa non sapevo che mi avrebbe portato tutto quello che mi ha portato in questi anni quindi quando mi si chiede l'opinione di forever è un'opinione molto positiva se tu stai guardando questo video perché sta cercando in rete opinioni su questa azienda su come lavorare con questa azienda cosa da questa azienda beh sei nel posto giusto ovviamente io mi sono innamorata dei prodotti perché sono partita dal prodotto il prodotto è stato un prodotto che veramente mi ha dato grandissime soddisfazioni e poi ho iniziato a lavorare ho costruito il mio business successivamente perché l'azienda ti dice guarda ti do i prodotti ti faccio stare bene se vuoi puoi avere anche un guadagno economico e quindi dieci anni fa quando ho iniziato avevo mi serviva necessariamente sia da un punto di vista fisico e sia anche un benessere economico che col tempo è arrivato dico col tempo perché in qualunque azienda in qualunque business o attività imprenditoriale i risultati per ottenerli bisogna chiaramente che passa un po di tempo quindi diffidate tutte quelle persone che vi dicono che immediatamente si possono ottenere guadagni perché non è così ovviamente c'è una modalità di lavoro che è soggettiva ognuno di noi può scegliere il suo modo di lavorare un modo di lavorare online offline misto provenendo dal covid un po tutti ci siamo buttati nell'online ma vi posso assicurare che questo lavoro si può fare in tanti modi quindi non c'è un unico metodo di lavoro i metodi sono tanti sta a noi sposare il metodo che piace per esempio a me piace tantissimo lavorare su google io sono una blogger ma anche youtuber ma ci sono persone che lavorano su instagram lavorano offline e non conoscono tutte le potenzialità di internet quindi non esiste l'unico metodo esiste solo passione voglia di imparare e mettersi in gioco con queste tre elementi può fare carriera in forever quindi ti aspetto per una consulenza se vuoi lavorare con noi